MENTE UNIVERSALE Ho letto che alcuni scienziati hanno costruito un labirinto e misurato il tempo impiegato dai topi per uscirne. Poi hanno addestrato gli animali a farlo nel minor tempo possibile e li hanno incrociati tra loro. I topi nati dall'incrocio, già da piccoli, uscirono dal labirinto nello stesso tempo impiegato dai loro genitori addestrati dall'uomo. Gli scienziati credettero di aver dimostrato l'ereditarietà delle conoscenze acquisite. Ma in un'altra parte del mondo altri scienziati eseguirono gli stessi esperimenti con topi che non erano stati addestrati dall'uomo e constatarono che i ratti uscivano dal labirinto nello stesso tempo dei loro simili addestrati dall'uomo. Perché? Commento Perché la mente universale trasmette a tutti gli individui che fanno parte dell'anima gruppo della specie l'evoluzione che hanno comunque raggiunto altri individui della stessa specie. Infatti tutti gli individui che fanno parte di una specie nei piani superiori di esistenza sono uniti tra loro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.